Abbiamo incontrato una squadra forte con grossa fisicità, forse singolarmente con meno qualità della Lazio, però una squadra dura, ostica, gli avevo preparato ai ragazzi, però purtroppo non siamo stati bravi a tenere testa. Sicuramente quando si perdono le partite ci sono tanti errori, ne abbiamo fatto non uno ma tanti perché anche il rammarico più grosso è prendere palla a gol su rimessa laterale dove già avevamo subito un'occasione da gol 5 minuti prima e questa è una grossa superficialità dei ragazzi e questo mi dà molto fastidio. Mi aspetto sicuramente cose diverse rispetto ad oggi perché oggi siamo stati succlassati dal punto di vista della fisicità, del ritmo, della cattiveria e noi siamo venuti bene e questo mi dispiace tantissimo perché ogni giorno ai ragazzi ti dico che alla base deve esserci questo e poi semmai mettere qualcosa se siamo bravi a livello tecnico ma non puoi prescindere una squadra soprattutto che si deve salvare dalla cattiveria agonistica, dall'attenzione e questo lo ripeto mi dispiace ma evidentemente non sono stato bravo io a trasmetterlo ai ragazzi.